Una buona domenica a tutti voi in ascolto con la nostra rubrica settimanale Cieli nuovi, Terra Nuova. Siamo giunti nel percorso di questo anno liturgico, all'interno del tempo ordinario, alla ventisettesima domenica del tempo stesso. Ora, nell'economia di un anno liturgico è bene condividere il fatto che le domeniche del tempo ordinario sono 34. L'ultima è quella che vivremo, a Dio piacendo, domenica 26 di novembre, la solennità di Cristo Re che chiude il tempo ordinario e poi ripartirà un nuovo anno liturgico con il tempo di avvento. Noi sappiamo, ci siamo già intrattenuti, sul Vangelo di Matteo che noi stiamo leggendo in questo anno contraddistinto dall'anno A. Dal mese di avvento entreremo nell'anno B che sarà dedicato alla lettura del Vangelo di Marco. Un Vangelo che io oso definire, ho qui Don Ferdinando Tiburzi, nostro ospite anche per questa domenica, poi lascerà il posto domenica prossima ad un altro suo confratello. Il Vangelo di Marco è un Vangelo che, io dico, va proprio per il sottile. L'essenziale è la predicazione di Pietro ed è un Vangelo molto concreto, starei a dire senza oleografie alla San Luca, senza, starei per dire, pennellate angeliche di Matteo. Giovanni io non lo calcolo perché Giovanni è il Vangelo non sinottico, è il Vangelo delle grandi solennità. Quindi la differenza la noteremo probabilmente tra Matteo e Marco. Dico questo perché anche se mancano alcune domeniche non c'è dubbio che il Vangelo è una guida fondamentale per noi. Mi piace introdurre questa nostra discussione, Don Ferdinando, con quella che è stata un po' la conclusione dell'Assemblea Diocesana che abbiamo vissuto la tre giorni a Contigliano. Ovvio che ogni diocesi, all'inizio di ogni anno pastorale, si ritrova, fa sintesi e programma. E non dè dubbio che anche in questo caso la coordinata principale è l'annuncio del Vangelo. E il Cardinale Zuppi ha raccomandato ai Vescovi di tutto il Vangelo, non il Vangelo che potrebbe interessare a questo o a quel Vescovo, a questo o a quel settore. Il Vangelo di oggi, e adesso lo seguiremo insieme, conclude la cosiddetta Trilogia della Vigna. Sono già un paio di domeniche che Gesù ci ha intrattenuto con esempi forti, direi, all'interno di una predicazione che non ha badato tanto a Fronzoli, perché i contraltari erano gli scribi, i farisei, gli anziani, i sacerdoti del Tempio e quindi occorreva rendere manifesta l'esigenza di un superamento ed un completamento della legge mosaica. In questa ventisettesima domenica siamo al capitolo sempre 21 del Vangelo di Matteo. I versetti dal 33 al 43. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo. Ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scapò una buca per il torchio e costruì una torre. Lo diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi serbi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i serbi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri serbi, più numerosi dei primi, ma li trattarono tutti allo stesso modo. Da ultimo mandò il proprio figlio dicendo avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro, costrui e l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna? Che cosa farà a quei contadini? gli risposero. Quei malvagi gli farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro. Non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato e diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Siamo arrivati ai vignagnoli omicidi. Questa è la parabola con cui si identifica nell'uso corrente questa parabola. E non v'è dubbio che il sopprimere tutti questi personaggi da parte dei contadini richiama molto purtroppo il vivere di ogni giorno. Ma vorrei rimanere nell'ambito ecclesiale, pastorale anche, con questo Vangelo che riprende molto la prima lettura di Isaia. In queste domeniche Isaia ha dato il là al Vangelo. Ecco, ancora una volta l'immagine della vigna, questa vigna. Ricordiamoci reciprocamente questa vigna. Qual è il simbolo importante e fondamentale? Tranquillamente dobbiamo convenire che questa vigna è il popolo di Dio. Esatto. Il popolo di Yahweh. Israele e poi la nuova chiesa che viene posta su questa testata d'angolo, la pietra dei costruttori. Esatto. Quindi la identificazione di questo percorso interessa l'Antico Testamento e poi il nuovo. I vari servi sono i profeti, coloro che che il Signore ha chiamato ad operare nella sua vigna. E hanno veramente dato tutto. Pur nelle difficoltà hanno saputo comunque corrispondere a quella che è stata la chiamata. È vero. Ecco. questi servi hanno sicuramente corrisposto ad uno dei dei appelli ero che Yahweh continuamente durante l'Antico Testamento ha rivolto loro. Dire che per esempio da Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, Geremia, Isaia. No. Ecco. Tutta questa schiera sapeva che l'importanza della missione era quella di eseguire ciò che il Signore chiedeva loro. Ed è confortante questo perché nessuno di loro si è tirato indietro. Anche il figlio che identifichiamo in Gesù, anche lui aveva già. Era una prospettiva. La prospettiva, esatto. Che sicuramente l'avrebbe condotto alla morte. Lasciami dire una cosa. C'è un aspetto che io definisco anche consolante. Dio non abbandona mai il suo popolo. Sicuramente. Questa vigna, anche se governata da certi soggetti, tuttavia non viene mai abbandonata. Ed ecco l'avvicendamento, come diceva Don Ferdinando, l'avvicendarsi dei profeti fino al profeta per eccellenza. Per eccellenza. Ecco. Da questo momento in poi lui, Cristo Gesù, costituisce la nuova Chiesa. Vero. Ecco. E quindi gli Apostoli sono stati i primi a dare il proprio contributo. Nulla di intentato c'è nelle Sacre Scritture. Eh, ci hanno messo la faccia duramente gli Apostoli. Il progetto del Signore è preciso. Vero. La salvezza di tutta l'umanità. La salvezza appartiene al popolo. Sì, ecco. Quindi non dobbiamo disperare. È vero. Ecco. Tutto questo ci consola. Però, però, c'è sempre la responsabilità. Anche colui che si permette di uccidere, no? Sa che anche lui deve essere protagonista nella salvezza. Perché il Signore, fino all'ultimo, cercherà di poter dare l'occasione, l'opportunità di entrare nella vigna. A tutti, a tutti. Questa è la bellezza del popolo di Israele e del cristianesimo poi. Quindi, quando si dice che ci sono persone cattive, nessuno nasce con questa, diciamo, dimostrazione di cattiveria. Nessuno di noi nasce così. Ci si adegua e ci si magari pian pianino anche si rende consapevoli e responsabili nell'arco della vita. Quindi hanno ucciso i profeti, hanno ucciso Gesù. Però, ecco, questa risurrezione che ci apre. Nonostante noi abbiamo voluto quella morte, no? Il Signore continua a dare... E noi siamo chiamati ad essere sempre qui nuovi contadini. Sicuramente. Quindi... Dobbiamo portare frutto. Oh, e questo è... E qui torniamo al nocciolo. Eh sì, eh sì. Perché? Perché tutto quello che il Signore ci dà... Sì. Non lo dà per me... È giusto. O per te. No? Lo dà perché io possa... Possa. Portare frutto. Portare frutto. E' dai frutti che si riconosce. E questa testimonianza, no? Dei buoni frutti, vero? Qualifica il vero credente. Quando sentiamo dire oggi, oggi, no? Quello, quell'altro ha fatto, non ha fatto... Quali frutti? concretamente, noi oggi ravvisiamo. Coloro che, per esempio, dominano nella Chiesa, oggi, probabilmente non hanno corrisposto. Sappiamo che c'è un sinodo dei Vescovi che si è appena aperto. Non parlo. Lo si vede, lo si interpreta sotto varie angolazioni. Ma quando tu, quando tu, all'interno di quei rappresentanti, no? Sai già che c'è qualcosa che si muove in senso contrario, cosa ti aspetti? Sì. Eh, comunque, chiudiamo questa parentesi. Sì. Allora, vorrei che veramente, ogni qualvolta noi ci accostiamo alla parola, ci sia davvero in noi, un senso di sollievo, perché questo vuole Gesù. Lo hanno ucciso? Che cosa ha detto sulla croce? Padre perdona loro. Sì. Ed è il messaggio più bello, perché colui che è venuto per redimerci, non ha mai condannato alcuno. Mai. E allora, che ci sia sempre questa speranza. Non dobbiamo disperare, mai, mai. La misericordia di Dio è talmente grande che noi dobbiamo avere fiducia fino all'ultimo istante della nostra vita. Ecco. I martiri ci sono ancora oggi. È vero. Ci sono ancora oggi. E perché i martiri? Perché hanno capito? Noi sappiamo che martire significa testimone. Testimone. Dal greco. Sì. Ma perché il martire? Perché ha creduto in Gesù. È vero. No? E quindi non ha avuto nessun dubbio, nessuna incertezza nell'offrire se stesso. Non ha opposto resistenza, dice Isaia. Noi dobbiamo sapere che soltanto con il sacrificio si ottiene ciò che serve alla Chiesa di Dio. Tutte le altre, diciamo, prospettive non valgono niente. Noi dobbiamo, con il sacrificio, conquistare le anime. E questa è la più bella testimonianza. Potrebbe essere un sacrificio di sangue, potrebbe essere un sacrificio di dedizione. Ecco. Però questi frutti sono quelli che qualificano il vero missionario e qualificano il vero servo di Dio. Quando un sacerdote si permette di poter dare se stesso, allora sì, che noi possiamo da quella testimonianza ricavare dei benefici. Valutiamoli questi sacerdoti, incoraggiamoli e cerchiamo di pregare per loro. Perché davvero tutto, tutto sia veramente indirizzato per il bene delle anime. Credo che davvero, quando io partecipo alla Messa Domenicale e avverto, sento certe ripercussioni, ma io da lì dovrei inebriarmi, sentirmi forte e uscendo di chiesa dovrei ricavare, però dalla parola, quella spinta a poter dare tutto se stessi nella settimana che dobbiamo affrontare. Ecco, incoraggiamo, incoraggiamo i servi di Dio. E anche quando magari ci dovessero essere delle debolezze, preghiamo perché possano rientrare in quello che è il mandato del Signore. Io mi permetto di non aggiungere altro, perché vi lasciamo questa nostra riflessione. In questa settimana noi abbiamo celebrato la figura di Francesco, l'alter Christus, che, come ci diceva Don Ferdinando, non è un rivoluzionario, ma è uno che era cosciente del proprio compito, il portare frutti, come ci dice il Vangelo di questa Domenica. E non l'ha fatto con la smania del potere e pensare che ancora quando era in vita già c'erano le prime divisioni su chi dovesse comandare. Sono due gli aspetti da mettere in evidenza. Sì. Povertà e umiltà. Povertà e umiltà. Povertà e umiltà. Se io in un sacerdote non ravviso queste due virtù... Sì. Povertà e umiltà. E quel progetto che ci diceva Don Ferdinando, il progetto di Dio, è un progetto di infinita inclusione. Tutti siamo chiamati a concorrere all'edificazione del Regno di Dio. Io non aggiungo altro se non quello di condividere con voi questo invito del Vangelo. Lo darà ad altri contadini perché possano portare frutto. Grazie Don Ferdinando di queste domeniche. Da domenica prossima, per le prossime tre domeniche, avremo ospite Don Zdenek Copriva, che è il parroco di Santa Maria delle Grazie in Vazia. Per il momento ringrazio ancora Don Ferdinando e a voi. Grazie e buona domenica a tutti. Buona domenica. Grazie a tutti.